Sapete cosa sarebbe molto divertente? Vivere in un paese dove anche gli animali e gli oggetti possono parlare. Un paese delle meraviglie. Esiste un posto così? Certo, basta usare la fantasia. Pronti per fare questo viaggio? Allora, andiamo! Questo percorso didattico prende spunto dal libro Alice nel Paese delle Meraviglie in cui si racconta il viaggio di Alice, una bimba di 7 anni, in un mondo magico e umbilico tra sogno e realtà. I bambini saranno i protagonisti principali di questo viaggio alla scoperta di un mondo fantastico, pieno di sorprese e strambi personaggi che offriranno loro stimoli per avere una visione differente delle cose e tante nuove idee. È un percorso suddiviso in tappe per l'unione delle quali è prevista un'attività musicale che può essere di ascolto, di movimento, di canto o di esplorazione e scoperta. Ma non solo! In ogni capitolo sono presenti anche delle riflessioni psicopedagogiche sviluppate a partire dall'esperienza proposta. Si tratta di idee e spunti che approfondiscono il tema principale di ogni incontro. Tale riflessioni sono strutturate così da avere una parte più teorica che si unisce poi ad alcuni suggerimenti per ulteriori attività da proporre ai bambini, alcune musicali, altre non, ma sempre connesse al tema centrale del capitolo. All'interno del libro è presente un QR code che è possibile scansionare con uno smartphone o un tablet tramite il quale si può accedere al materiale multimediale da utilizzare nel percorso didattico. Le musiche possono essere quindi scaricate o riprodotte direttamente online. Quindi cosa aspettate? Andiamo tutti a meraviglia con Alice!